Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Merita indubbiamente considerazione e anche riflessione critica la tanto discussa e tanto discutibile partecipazione di Papa Bergoglio alla trasmissione detta Che Tempo Che Fa, condotta sulla RAI da Fabio Fazio. Papa Bergoglio ha ancora una volta in maniera non particolarmente originale, va detto, parlato disinvoltamente di questioni molto diverse fra loro, che spaziano dall'immigrazione alla gestione del mondo immanente. Il pontefice del resto ci ha abituato in questi anni. Egli si trova particolarmente a suo agio nel parlare in maniera disinvolta di ambiente e di immigrazione, di cosmopolitismo e di vaccini. Lo fa con passione e spesso anche con competenza, assumendo idealmente ora i panni del segretario di partito progressista arcobaleno, ora della guardia forestale planetaria, ora ancora dell'operatore ONG. La sola cosa di cui curiosamente non vi sia traccia nei sermoni di Bergoglio, e anche l'altra sera in tv lo si è constatato, è di Dio e del sacro, dell'eterno e della trascendenza. Ciò è parte integrante dell'eclissi del cristianesimo. Si tratta di un'eclissi che procede da molto tempo e che trova nella chiesa di Roma il proprio epicentro, non certo il proprio principale ostacolo. La chiesa di Roma in effetti sembra in balia di un ateismo liquido che la porta a essere ormai ancella della civiltà dei consumi più che sua antagonista. L'evaporazione del sacro e l'ateismo dell'indifferenza, la chiusura al sacro e la mondanizzazione integrale paiono i capisaldi dell'epoca del nichilismo della tecnica, che è poi anche il tempo dell'oblio di Dio, oltre che, come ricordava Martin Heidegger, dell'oblio dell'essere. La civiltà tecnomorfe pantoclasta, in balia del nichilismo turbocapitalistico e del nulla della civiltà dei mercati, è in effetti l'epoca che ha dimenticato Dio e che ha dimenticato anche la dimenticanza di Dio, sicché nemmeno più si pone il problema intorno alla assenza di Dio. È quella che Nietzsche chiamava l'epoca della morte di Dio. Ma cosa accade allorché l'ateismo dell'indifferenza e la perdita del sacro saturano la chiesa di Roma e occupano financo i modi e le parole del suo massimo esponente? Che cosa resta della chiesa? Possiamo dirlo senza tema di smentita. Il pontificato di Bergoglio si caratterizza sul piano strettamente teologico per una ecclesiasticità banale e per una palese chiusura alla trascendenza. Una ecclesiasticità banale intessuta di appelli d'anima bella per l'ambiente e per il cosmopolitismo, per l'accoglienza e per le alterità, e figura come l'apoteosi di questa dinamica di scristianizzazione del mondo, vuoi anche di evaporazione del cristianesimo. Si tratta di un processo che ha condotto la chiesa, in ultimo, a rendersi superflua rispetto alle ragioni del mondo delle quali si è ridotta al rango di raddoppiamento per definizione superfluo. Il risultato, credo, sia sotto gli occhi di tutti e ne offre una viva testimonianza esattamente il pontificato di Bergoglio. Ogni qualvolta la chiesa di Roma provi a essere di nuovo cristiana, come ha in più occasioni provato a fare con l'ormai dimesso pontefice Ratzinger, essere spinta e ritenuta inaccettabile dalla civiltà dei mercati. Ogni qualvolta, in modo diametralmente opposto, la chiesa di Roma provi ad adeguarsi, come fa con Bergoglio, al mondo e ne diventi raddoppiamento superfluo, ecco che essa viene celebrata a reti unificate dall'industria culturale e dal discorso politicamente corretto. Forse proprio inciosta al segreto dell'indice di gradimento che la chiesa di Bergoglio ottiene anche da Fazio in televisione e invece l'indice di non gradimento che la chiesa di Ratzinger non ha mai saputo superare. A tal punto che, come sappiamo, Ratzinger è uscito sconfitto da questo processo che segna l'apice della scristianizzazione del mondo rispetto alla quale, dicevo, la chiesa di Roma sembra essere parte integrante.